Il cuore di Pordenone si trasforma nel weekend in un tripudio di fiori, piante, colori e romi. Tutto questo grazie alla seconda edizione di Fiori a Pordenone, sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 20 lungo lo storico Corso Vittorio Emanuele. La manifestazione nasce dalla collaborazione di diversi soggetti. Abbiamo organizzato, grazie alla collaborazione con Stefano Pelliciardi, Sviluppo e Territorio Ascomo, questa iniziativa con i Fiori a Pordenone, sabato e domenica nel salotto buono della città, quindi Corso Vittorio Emanuele, ci saranno questi fiori con la possibilità di vederli e anche comprarli. Ci sono più di una quindicina di espositori, la città sarà coloratissima e quindi dopo i cantieri invitiamo tutti a visitare la nostra città perché già è bella, ma con i fiori sarà bellissima. La Kermess, prevista inizialmente a maggio, è poi stata rinviata a ottobre causa maltempo. I visitatori troveranno comunque una grande offerta di fiori e sapori. Troveranno le piante aromatiche con i loro profumi, troveranno dei bonsai di varie dimensioni e forme di recente fioritura, troveranno vari tipi di orchidee, troveranno le piante verdi da interno come le felci o l'edere da decoro, ma anche quelle da esterno come il tronchetto delle foglie sottile e morbide e la pianta d'eucalitto. Ovviamente, visto il periodo, quelli che sono i protagonisti, il must di questo appuntamento qua, sono i ciclamini che creeranno quindi, in una cornice così bella come Corso Vittorio Emanuele, creeranno degli angoli suggestivi e particolarmente emozionanti.